È arrivata al traguardo l'inchiesta del 2018 sui medici, infermieri e tecnici del laboratorio di analisi dell'ospedale Santo Stefano accusati di truffa aggravata per aver fatto fare gli esami del sangue a parenti e amici senza il pagamento del ticket. La Procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai 44 indagati. Per 33 è rimasto in piedi il capo d'imputazione, per 11 invece è stata chiesta l'archiviazione perché i fatti contestati rientrerebbero nella cosiddetta particolare tenuità. Tra le 33 posizioni c'è anche quella di Patrizia Casprini, rimossa dalla direzione del Dipartimento di Medicina di Laboratorio in seguito all'avviso di garanzia. Almeno un migliaio le provette di sangue che tra il 2015 e il 2017 sarebbero approdati al laboratorio dell'ospedale senza che vi fossero a monte i passaggi previsti dalla procedura, accettazione, assegnazione del codice a barre e soprattutto pagamento del ticket. Secondo gli investigatori, il meccanismo non sarebbe stato altro che un giro di favori tra parenti e amici conoscenti. Grazie all'aggancio giusto in ospedale, chi aveva bisogno di fare gli esami del sangue avrebbe risparmiato ogni volta qualche decina di euro, soldi che, sempre stando alle indagini, nessuno si sarebbe intascato, praticamente solo un risparmio, con conseguente danno per le casse pubbliche. La Procura ha affidato a un consulente il compito di ricostruire il percorso di ognuna delle pratiche finite nell'inchiesta, un lavoro lungo che ha portato alla luce le tracce informatiche di ITER anomali in quanto privi di alcuni passaggi fondamentali a iniziare dal pagamento del ticket.